Buongiorno a tutti, sono Alessio Castelli, siamo qui ai laghi di Bellavalle, al Barberino di Mugello e oggi vi presenterò degli spoon della Goddance Fuga, hanno due grammature, 2,2 e 2,8, hanno una forma più affusolata e hanno quindi un movimento più simile a un pesciolino. Hanno tanti colori, tra cui 10 studiati appositamente per il mercato italiano. Si possono usare sia nel triottaria che nei nostri fiumi a spinning. E adesso andiamo a provare. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie per la visione!